ciao a tutti gli amici di mojoma oggi tema interessantissimo intelligenza artificiale applicata alle immagini fotografia e video ne parliamo con una delle persone più importanti e preparate in italia su questo argomento giovanna griffo ciao a tutti e grazie ciao giovanna e grazie per essere ospite anche di mojoma oltre che di questa manifestazione bellissima di pescara e iniziamo subito con le domande soltanto una cosa prima se volete sapere qualcosa iscrivetevi alla newsletter di giovanna griffo perché è l'anticipazione su tutte le novità e sulla formazione per questo settore giovanna cerchiamo di spiegare la prima cosa come l'intelligenza artificiale può aiutare una persona a creare immagini da un prompt cioè da che una dettatura oppure come può servire per aiutare uno scatto reale che facciamo ad un prodotto ad inserirlo in altri ambienti insomma dici tutto diciamo che gli utilizzi dell'intelligenza artificiale generativa quindi quella che produce immagini a partire da un testo che è chiamato prompt abbiamo già utilizzato un termine tecnico ma possiamo utilizzare anche come sorgente un'altra immagine oppure una fotografia stessa sono tantissime gli utilizzi che possiamo fare di questa tecnologia tu hai già anticipato qualcosa hai già fatto degli utilizzi un po avanzati come ad esempio collocare un prodotto reale quindi la fotografia di un prodotto reale in un contesto virtuale quindi ambientato in un set che non esiste questa è una delle applicazioni piuttosto avanzate perché le ai che chiamiamo così in gergo gli ai che esistono diciamo sul mercato in genere non sono così sofisticate sono molto brave ad inventare qualcosa dal nulla ma quando gli chiedi di essere controllate e quindi di agire su qualcosa di ben definito come può essere la fotografia di un prodotto hanno dei problemi è per questo che bisogna rivolgersi a delle ai un pochino più sofisticate che ti permettono più controllo come stable diffusion ad esempio che ha l'intaggio di essere un open source bravissima diamo qualche riferimento proprio concreto di qualcosa dove che devono cliccare su google per approfondire allora sicuramente iscriversi alla newsletter perché fornisco un pdf quello sicuramente tutte le istruzioni per installarlo sul proprio computer e quindi tutto ciò che serve per utilizzarlo perché ahimè il lato negativo della medaglia è che questa tecnologia così sofisticata che permette di avere tanto controllo non è così facile da utilizzare certamente prevede una curva di apprendimento piuttosto ripida però questo è lo scotto da pagare se vogliamo controllare queste benedette ai perché fin tanto che fanno quello che gli pare va sempre tutto bene fanno delle cose fantastiche meravigliose ma quando vuoi applicare del controllo è lì che cominciano ad arrivare i dolori ma per applicare controllo ovviamente ho bisogno di poter manipolare la mia interfaccia quindi ho bisogno di tanti controlli e per questo motivo che stable diffusion fra tutte le ai disponibili è quella più ostica più complicata ma è l'unica che permette di fare questo tipo di lavori un po più avanzati più sofisticati e che quindi sono più spendibili a livello professionale parliamo così velocemente di costi opportunità e soprattutto rispetto alla privacy ho visto che qualcuno dice ah ma se io poi butto in pasto questa immagine su queste ai poi diventa di tutti e tu suggerivi di averlo in locale spiegano esatto esatto perché la maggior parte delle ai e citomi giorni adobe farfly da lì bing image creator ce ne sono tantissime lavorano sul web quindi sul cloud quindi quando utilizziamo quei sei è vero che le immagini vengono caricate su qualcosa dove non ho controllo ma la buona notizia è che se utilizzo qualcosa che lavora in locale sul mio computer quindi senza aver bisogno assolutamente di accesso a internet come stable diffusion ovviamente questi problemi non ci sono e mi sento di aggiungere che oltre a risolvere il problema della privacy quindi quello che produco lo vedo solo io c'è anche un altro problema molto forte secondo me che è quello della censura che è presente in tutte le aiche ci sono là fuori l'unico posto dove la censura non c'è è sto computer casa tua però deve essere un pochino potente facciamo capire un po velocemente sempre velocemente ci vuole un computer abbastanza potente soprattutto parlando di scheda grafica quindi non è importante la cpu non è importante la ram è importante la scheda grafica deve essere una scheda grafica con almeno 12 giga di v ram quindi la ram dedicata alla scheda video che non sono pochini già 12 giga ma l'ideale sarebbe lavorare con 24 addirittura la buona notizia però che se uno non si sente di fare un grosso investimento sull'hardware ci sono anche delle soluzioni online che ti permettono di noleggiare una gpu con dei costi abbastanza buoni quindi si può noleggiare il tutto e lavorare come se si stesse in locale perfetto poi nel tempo le cose cambieranno si abbasseranno anche i prezzi magari chi può dirlo ma in genere le cose evolvono per il meglio diventano sempre meno costose e più accessibili quindi io credo che poi alla fine finirà che la potremo utilizzare tutti e con facilità però per usarla ad un certo livello e conviene formarsi diciamo brevemente com'è la tua offerta formativa che cosa proponi per chi poi vuole crescere in questo settore allora diciamo che viviamo in un'era fantastica dove lì fuori c'è tutto lo scibile umano a cui puoi accedere anche gratis quindi basta fare due clic su google e hai accesso a qualsiasi cosa quindi là fuori c'è tutto il problema qual è è che c'è anche troppo credo che non basterebbe una vita intera o più vite per poter analizzare tutto quello che c'è lì fuori come contenuti formativi quindi se voglio approfondire qualche tema c'è tutto a disposizione il problema che c'è troppo c'è bisogno di filtrare e soprattutto sono tutte informazioni destrutturate quindi come avere un enorme puzzle che hanno lanciato per aria o tutti questi pezzettini sparsi e non ho l'immagine di riferimento per fare il puzzle quindi diventa molto complicato formarsi in questa maniera se si ha molto tempo quindi magari immagina uno studente che ha tanto tempo a disposizione potrebbe anche considerare questo tipo di approccio un'auto formazione esatto perché ha tanto tempo a disposizione io però credo che il tempo ma chi ha poco tempo e magari ha un po' di budget può affidarsi a qualcuno che questo percorso di fare il puzzle l'ha già fatto quindi lavoro sporco l'ha già fatto ha messo già in fila tutti i pezzettini e quindi magari padroneggia un flusso di lavoro che ti permette di arrivare dritto alla soluzione in poco tempo quindi queste sono le possibilità l'ultima domanda così poi ti lascio libera di prepararti per l'intervento e se questa è un'opportunità per creare immagini per il giornalismo è una minaccia come photoshop o comunque come che cos'è la i per il giornalismo è una cosa molto pericolosa molto molto pericolosa ci sono stati già dei casi in cui delle testate giornalistiche hanno preso dei reportage che pensavano fossero autentici invece erano interamente generati in ai quindi diciamo che forse nulla è cambiato sotto il sole perché i falsi fotografici si sono sempre fatti dall'alba dei tempi dalla camera oscura che si facevano i falsi la differenza oggi qual è è che quest'opera fraudolenta di falsificazione è molto più accessibile molto più veloce molto più realistica quindi molto più pericolosa ecco perché secondo me è importante fare divulgazione rendere le persone consapevoli di quello che c'è là fuori e quantomeno trasmettergli quel beneficio del dubbio che quando guardano qualcosa devono avere un approccio molto critico e non prendere per buono tutto ciò che gli si farà davanti perché al giorno d'oggi già oggi è già così è assolutamente difficile distinguere una fotografia da una sintografia che il termine tecnico che attualmente viene utilizzato per definire le immagini generate dall'intelligenza artificiale quindi attenzione occhi ben aperti quindi Grazie a tutti.